Come riconosce un capo originale da un capo fake? Venite con me. Osserviamo i 5 punti per verificare l'originalità di un prodotto. In questo caso abbiamo un giubbino appena arrivato in store della Peteray. Numero 1. Patch della Peteray con i due bottoni con la scritta sul logo. Numero 2. Il ricamo Peteray non presenta nessuna sbavatura. Numero 3. Il patch Peteray con la taglia visibile interno giubbino. Numero 4. Garanzia e istruzioni del lavaggio. Numero 5. Che presenta l'articolo con il codice AN13 della casa madre. Ragazzi ovviamente la verifica è già stata fatta da noi.